Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio il video Cosa ne penso di Insondabili, gioco della Fantasy Flight, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che ringrazio immensamente per avermi offerto questa copia per la recensione. E se vi ricordate, ci avevo già fatto precedentemente l'unboxing, che se volete andare a vedere lo trovate nei video precedenti, circa 2-3 video fa. Ma gioco interessantissimo, gioco veramente che attendevo da tanto tempo e non si scappa sempre nell'ambientazione di Arkham Horror e delle opere del grande maestro Lovecraft. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Arkham Horror Files, insondabili in questa edizione che vedete qui davanti a cura di Asmod Italia, è un gioco di cooperazione, in cui vestiremo i panni di un equipaggio di una nave, di un battello a vapore, che dovrà fare un viaggio classico per arrivare fino alle coste americane. E durante questo viaggio il battello sarà assalito dai figli del mare, dai figli del dio Dagon, quindi gli uomini pesce, tra virgolette, e anche dalla sua consorte, che c'è all'interno del gioco, non c'è soltanto il dio, ma ci sono due divinità degli abissi di ugual potenza, e dovremo sopravvivere a questo viaggio non soltanto da queste creature che andranno ad assalire la nave e che dovremo combattere e respingere, ma anche degli altri membri dell'equipaggio che saranno a bordo con noi, perché magari qualcuno di loro potrebbe essere un ibrido, ovvero un figlio d'agoniano sotto mentite e spoglie, un abitatore del profondo, oppure potrebbe essere semplicemente un cultista. Nel buon stile, e chi l'ha detto aveva ragione, di Battlestar Galactica, questo ragazzi, senza mezzi termini, ma perché ora poi, quando vi vado leggermente a dare qualche informazione in farinatura sulle regole, ve ne accorgerete anche da soli, questo è davvero, e non è un insulto perché a me piaceva da morire, è veramente Battlestar Galactica in ambientazione Arkham Horror. In questo gioco di orrore in alto mare, voi andrete a interpretare la parte dell'equipaggio di questo battello a vapore che dovrà fare questo viaggio, e a bordo avrete anche dei ruoli, perché ci sarà magari un giocatore che avrà il ruolo del capitano e un altro giocatore che avrà un ruolo particolare che sarà quello che potrà avere accesso al tomo, perché la storia racconta che a bordo di questo battello a vapore, di questa imbarcazione, è stato trovato questo tomo del potere con cui qualcuno ha provato non tanto, questa è una cosa che mi è garbata, non tanto ad evocare le divinità, in questo caso Dagon, i figli del profondo, ma quando le divinità, questi mostri degli abissi hanno attaccato, qualcuno ha provato a mandare avanti questo rito per bloccarli, non tanto per evocarli, quindi a bordo c'era qualcuno che poteva bloccarli, ma questo qualcuno è morto e spetterà a voi compiere il rituale. Ed è bellino perché in questo gioco avete la possibilità di andare in giro per tutte le zone della nave, sia nelle zone sotto coperta che nei ponti superiori, ovviamente in acqua no, in acqua ci si spostano soltanto gli orrori del profondo, e potrete fare due azioni per ogni turno e potrete muovere il vostro personaggio in giro per la mappa, ad esempio se andate in infermeria, vi potrete, di solito ci finite dopo un evento, vi potrete ricurare completamente, però salterete il turno, se andrete magari nel locale macchine potete fare qualcosa, in cucina un'altra, e la cosa importante è che non dovrete far sì che la nave venga prima di tutto distrutta, non dovrete far sì che la nave sia completamente invasa dei mostri, perché regola vuole che quando dovete mettere un figlio di Dagon a bordo, e non ce n'è più nella riserva, avete perso la partita, e soprattutto dovete stare attenti che le risorse, Battlestar Galattica, quindi la sanità mentale, l'equipaggio, il carburante, e le risorse anche di cibo e tutto quanto, cibo ed acqua, non arrivino a zero perché la prima risorsa, il cui valore, anche la sanità mentale dell'equipaggio, arriva a zero, avete perso la partita, quindi la partita si può perdere in questi modi qui, più se i mostri affondano una nave, perché Dagon e i mostri più grandi, ma anche quelli più piccini, si seranno manforte, possono distruggere le stanze, e quando tot stanze sono distrutte, ovviamente c'è una falla nella nave, nello scaf, la nave andrà a fondo. Quindi il vostro scopo è quello intanto di perseverare e di tenere a galla la nave, ma poi un altro scopo importante è di cercare di capire chi sono uno, i traditori, che sono giocatori come voi, con la carta traditore che invece collaborano, e si possono anche rivelare con i Dagoniani, ma soprattutto la parte più carina e più difficile è l'ibrido, perché l'ibrido è qualcuno che voi dovete scoprire che non è tanto un traditore, non è il fatto che è un traditore, è proprio un figlio di Dagon che ha provato ad assumere le sembianze umane, quindi risulta un po' una specie di umano squamoso o qualcosa del genere, ma toccherà a voi cercare di capire di chi si tratta. Quindi è bellino che quando capitano le carte crisi e le carte evento, voi potete giocare le vostre carte nascosti senza farvi vedere, e giocandole da nascosti queste carte potrete contribuire alla prova per farla succedere o per farla fallire. Se la fate succedere non succede niente e si va avanti, se la fate fallire invece succederà qualcosa, magari una parte della nave si rompe, qualcuno di voi va in infermeria o perdete risorse. Ed è molto interessante come gioco, perché bisogna anche cercare di capire chi è il traditore, perché se il traditore è il capitano e nella carta evento c'è scritto il capitano sceglie cosa fare, lì sono problemi, se non avete capito che il capitano era un possibile infiltrato. La partita si può vincere arrivando a tappa finale del viaggio, oppure riuscendo una volta o anche più volte a portare a compimento il rituale che serve per distruggere tutte le creature sul ponte superiore e in acqua. Quindi se voi riuscite ad attivarlo fa tipo una specie di scossa immensa di energia magica ovviamente che uccide tutti quanti i Dagoniani sia in giro per il ponte sopra la coperta, non ovviamente nelle stanze lo prenderebbe anche voi, che anche quelli in mare. Quindi comunque come gioco, come regolamento, se avete giocato a Battlestar Galactica potete anche non leggerlo. In conclusione, questo Insondabili è un gioco secondo me per tutti, non è assolutamente un gioco hardcore, occhio, è un gioco per tutti, non è hardcore a livello di regole, è molto semplice, quindi si spiega veramente facilissimo e davvero, se avete giocato a Battlestar Galactica leggete il manuale così, tipo numero Johnny 5, girate le pagine velocemente e vi rimangono in testa, però è hardcore per il fatto che potrebbe anche interessare a qualcuno che vuole un tipo di gioco un pochino più espanso e impegnativo perché c'è un fatto di indagine, cioè siamo tutti seduti al tavolino e ci si inizia a guardare perché nessuno si fida di nessuno, perché te puoi parlare bene, provare a darmi una mano nel momento giusto e poi me lo fischi in tasca con una carta sbagliata nel momento sbagliato e magari mi remi contro e mi fai perdere la missione. Quindi fino all'ultimo, quando finisce la partita, almeno che uno non si riveli o venga accusato, mandato in galera non saprei mai che era con te e chi no. È veramente un gioco spettacolare che per tutti gli amanti di Arkham Horror io vi consiglio assolutamente. Ragazzi, non ve lo fate scappare, credete a me. Se vi è piaciuto Battlestar Galactica, questo ce lo mettete accanto. Ringrazio Asmod Italia per avermi offerto questa copia per la recensione e è un titolo che secondo me dovete provare, ma sono convinto che ci farete tante tante serate e ve ne innamorerete. Provare per credere. Ciao ragazzi, alla prossima!